Un percorso storico, artistico e devozionale, che attraverso molteplici fonti d'archivio, quasi tutte inedite, riscrive la storia di una delle presenze monumentali più significative della città, sopravvissuta all'eruzione del Vesuvio del 1794. Ieri sera è stato presentato nella Basilica Pontificia di Santa Croce a Torre del Greco il volume Santa Maria di Costantinopoli, la Cappella dei Marinari di Torre del Greco, di Giuseppe Maddaloni ed Ernesto Pinto. Il testo indaga e ricostruisce la storia di uno dei luoghi di culto più antichi e importanti della città, legato a doppio filo alle vicende della marineria torrese e in modo particolare al Piemonte dei Marinari. In occasione dell'anniversario dell'eruzione del 15 giugno 1794, stasera abbiamo la presentazione di questo bel testo, di questo lavoro certosino di Giuseppe Maddaloni ed Ernesto Pinto sulla chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, la chiesa, la Cappella dei Marinai di Torre del Greco. Lo facciamo stasera proprio perché questa antica chiesa fu risparmiata dall'eruzione del 1794 e poi è stato sempre scenario, teatro dell'apostolato di San Vincenzo Romano col Piemonte dei Marinai. Sono contento che la presentazione del testo avvenga in Basilica in quanto in questo momento Santa Maria di Costantinopoli non è ancora agibile, sono in atto i lavori di recupero della facciata, speriamo in breve di metterla anche in sicurezza e cominciare a renderla fruibile per eventi culturali e anche di natura religiosa. A fine mese ci ritroveremo qui perché i Rotari consegneranno tutti i dipinti della chiesa, le tele della chiesa di Santa Maria di Costantinopoli che sono stati restaurati. Fu fatto una ventina di anni fa un primo restauro conservativo, adesso la sovrintendenza ha permesso anche un restauro integrativo di tutte le tele di Santa Maria di Costantinopoli. L'occasione della presentazione di questo nuovo testo ci dà anche l'opportunità di accogliere attraverso la presenza qui del colonnello Marmora del nucleo Carabinieri della tutela patrimonio culturale di Palermo della consegna dei quattro paliotti che furono asportati dalla chiesa di Santa Maria di Costantinopoli e che sono stati ritrovati a Palermo. auspico che possano tornare anche gli altri due paliotti. Durante la presentazione sono stati riconsegnati alla collettività due dei quattro preziosi paliotti d'altare risalenti al XVII secolo, trafugati dalla chiesa e ritrovati in Sicilia grazie all'azione dei Carabinieri tutela patrimonio artistico e culturale. È stato un lavoro effettivamente complicato, siamo davvero contenti e orgogliosi di poter restituire alla chiesa ma alla cittadinanza di Torre del Greco i due paliotti che erano stati oggetto di furto nel 2013 qui in Basilica. È stata un'indagine abbastanza complessa fatta sia da accertamenti sul web per individuarli praticamente sia con il coordinamento della procura di Siracusa individuare la posizione dei paliotti e di altri beni che poi sono stati sequestrati, quindi circa 3 milioni di euro il valore complessivo, in un resort di noto lì a Siracusa. Le indagini ovviamente stanno proseguendo, siamo alla ricerca degli altri due paliotti che mancano all'appello rispetto al furto originario del 2013 e ovviamente siamo alle prese con anche un'attività all'estero per individuarli esattamente e cercare di riportarli qui a Torre del Greco.